io e marco decidiamo di andare a vivere insieme e scegliamo di andare a vivere insieme nella sua casa studio vabbè la notizia non travalica i contini della stretta cerchia di amici e di qualche parente ma proprio proprio stretto stretto è tutto normale ovvio niente di particolare abitiamo a torre maura anche questo tutto normale ovvio tutto il normale ovvio fino a quel giorno buonasera oggi a torre maura dove a torre maura ripete la televisione si si a torre maura torre maura torre maura torre maura a torre maura quadrante s di roma lo scrivo nei giornali torre maura torre maura torre maura torre chi maura torre maura torre maura torre maura nella periferia est torre maura torre maura torre maura torre maura ma si si a torre maura il quadrante est di roma a torre maura ho detto a torre maura è a torre maura il nome del mio quartiere sconosciuto ai più sconosciuto a giornalisti e reporter sconosciuto perfino a molti cartografi sconosciuto alle stesse persone della mia famiglia diventa famoso tutti conoscono torre maura a torre maura torre maura quadrante est di roma torre maura è diventata famosa per evidente sillogismo anche a torre maura facciamo i sillogismi dicevo quindi per evidente sillogismo sono diventate famose anche le persone che abitano a torre maura a torre maura e di conseguenza sono diventata famosa anch'io lo capisco dalle telefonate che dicevo qualche giornalista mi contatta salve mi hanno dato il suo numero e volevo parlare con lei di quello che è accaduto alle case popolari spiego che non conosco bene la zona in cui i fatti sono accaduti ma spiego anche che mi sono informata spiego quali sono secondo me le cause di tanto malessere spiego quelle che secondo me potrebbero essere relazioni da svolgere per migliorare la situazione socio culturale di una periferia non di torre maura ma in generale di una periferia metropolitana ecco parlo discuto mi ascolta non mi ascolta non lo ammetto sono gasata poi il giornalista mi dice che trova tutto molto interessante sì sì ho capito però guardi conosce qualcun altro che potrei intervistare cortesemente come scusi no 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 cioè forse non ho parlato con chiarezza non forse non ho saputo esporre i miei pensieri forse forse e mentre sono lì che conteggio le mie forze mi telefona un altro giornalista stessa domanda io di nuovo rispondo argomentando questa volta anche ampliando di più le mie argomentazioni ma questa volta il giornalista mi ferma quasi subito sì ho capito mi scusi ma io cerco qualcuno di periferia no ma io abito io abito in periferia sì ho capito ma io lavoro lavoro con una rete televisiva ho bisogno di gente che parli come si parla in periferia gente che faccia un po ambiente costume come? ma lei parla bene lei non è adatta e bene e riattacca è passato diverso tempo il nome del mio quartiere è tornato nel anonimato più assoluto se sì nel frattempo però in televisione sui social in radio i giornalisti gli opinionisti wow gli opinionisti i critici d'arte wow i critici d'arte i politici yeah i politici continuano a incontrarsi scontrarsi a inveire a usare un linguaggio volgare offensivo violento li ascolto e penso chissà in quale quartiere abita questa gente ma grazie a tutti grazie a tutti